Si è conclusa la terza sessione del corso sulla forretta gestione del sinistro. Questa volta sono stati coinvolti gli imprenditori della Val di Chiana Retina e del Lago Trasimeno. Una sezione molto positiva e che come sempre ha voluto fornire agli imprenditori quelle norme tecniche per approcciarsi al sinistro nella corretta maniera e per evitare di perdere i clienti.